Oggi si svolge la manifestazione Winter Night, dalle ore 16 fino alle 2 di notte. La manifestazione è stata organizzata dalla Consulta dei Giovani per le vie del Centro Storico di Clusone. Abbiamo a partire dal pomeriggio una serie di attività dedicate ai bambini, in particolar modo in Piazza Manzù c'è proprio una piazza totalmente dedicata ai più piccoli, poi artisti di strada e altro intrattenimento per le vie centrali del paese. In Piazza della Rocca troviamo i mercatini di Natale, degli obbisti, della musica dal vivo e le caldarroste e il vimbrulè degli alpini. Salendo arriviamo in Piazza Orologio dove c'è l'appuntamento più importante del pomeriggio, ovvero lo spettacolo del comico Omar Fantini, direttamente da Colorado, la trasmissione televisiva. In Piazza Sant'Anna abbiamo invece un percorso di biciclette per i bambini, quindi con una segnaletica stradale, grazie alla collaborazione di Cicli Pellegrini e dalle vigilanze del Comune di Clusone. e visto che sta diventando sera farei un piccolo accenno a quella che è la novità per Clusone, ovvero l'illuminazione architetturale. Si tratta di un'illuminazione che va a risaltare i monumenti di Clusone. Abbiamo scelto il Palazzo del Comune, quel che si trova alla mia sinistra, le mura di Piazza della Rocca e la facciata della Chiesa del Paradiso. Queste luci andranno appunto a risaltare la bellezza artistica di questi monumenti clusonesi. Volevo proprio ringraziare chi ci ha aiutato principalmente in questa manifestazione, ovvero il Comune di Clusone, la turismo pro Clusone e i commercianti di Clusone. Ci siamo rivolti a loro presentando quello che era il programma Linea di Massima un paio di mesi fa. Abbiamo raccolto un numero di consensi davvero notevole e se oggi quello che c'è a Clusone si vede e il pubblico può ammirare tutte queste attrazioni è anche merito dalle attività commerciali del Centro Storico che hanno contribuito direi in modo molto importante a questa manifestazione. Allora, farò un medley di tutti i miei pezzi di repertorio per televisivi e non, quindi ci saranno un paio di monologhi, il nonno sicuramente, un pezzo ballato con cui chiudo lo spettacolo in cui in genere rischio di perdere la vita. Come è partita la tua carriera? Si è accesa, no in realtà è partita frequentando un laboratorio di comici a Milano, quindi diciamo che quella è stata il mio avvio. Basta ho finito, o ne fai un'altra o se no c'è un impasse. E quindi questa passione è nata proprio mentre intraprendevi questo corso di comici? Sì, questo non era un corso, in realtà io ho fatto un corso di teatro, un laboratorio è un posto dove i comici si trovano e davanti a un pubblico pagante provano i pezzi, per cui diciamo che lì ho iniziato a sperimentare le prime cose, vedere che funzionavano e ho costruito il mio repertorio che poi è diventato uno spettacolo e che poi è mutato nel tempo, insomma ha portato anche alle cose, alle esperienze televisive. E quali sono i tuoi prossimi impegni? Insomma siamo un po' curiosi, dove sarai? Allora adesso guarda, in realtà sono in giro con lo spettacolo per cui ho una tournée e mi dedico un po' a questo. L'altra cosa che vorrei coltivare in questo momento è il mio canale YouTube perché credo molto nel futuro della rete rispetto un po' a probabilmente il calare della televisione, le difficoltà di ascolti che ci sono, insomma, quindi mi sto cercando di dedicare un po' alla produzione in quel versante. Infatti ho un canale YouTube, se volete andare a vederlo, la pagina Facebook. Diciamo che gran parte della mia produzione finirà prima lì che da altre parti.